ciao a tutti oggi vi mostrerò una farm è una farm di cibo una farm di cibo infinito potete avere infinito non so come dirvi ma è infinito non si finirà mai ok facciamo così prima dovete mettere una tramoggia contro contro la contro la terra qui ci andremo a mettere il baule prendere il baule e prendiamo un blocco di terba erba tanto ci serve ok mettiamo così il baule in doppio uno come volete e facciamo così e poi qui e con con il dispenser contatto mettiamo mettiamo una tramoggia una tramoggia per ti perché qui ci andremo a mettere i polli ora mi aspetta ci sono è avvenuto una video vabbè ci siamo facciamo in tutto il torno così facciamo anche di qua perché sapete questa non è minecraft ma è somiglia al minecraft ma non è minecraft possiamo fare delle cose del minecraft un pochino quindi sto facendo e poi qui facciamo così alziamo di un po e poi anche di qua alziamo di un po e non ho sbagliato qua la tramoggia non ci doveva essere così ma dobbiamo mettere anche un altro blocco in un altro quindi adesso mettiamo questa parte qua perché qui dentro ci andrà i porsini ok magari qui mettiamo il vetro ok facciamo così abbiamo quasi finito quindi ora ci dobbiamo fare una cosa non lo so se funziona ma credo di sì eccolo si 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 funzionerà si facciamo così e facciamo così ora facciamo facciamo un connetto con un altro con il ripetitore e così si venirà una tic tic che ora vi faccio sentire forse voi vi sentite ma io non lo so credo di si eccolo e farà così che ora mi chiudo il labio perché c'è troppo ok e abbiamo quasi finito solo che ora ci dobbiamo alzare di due blocchi di questo e poi e facciamo così qui ci andremo a mettere i polli potete anche chiudere la farm facendo così e la farm è completa è chiuso quindi ora ci mettiamo la lava sopra sopra il mezzo blocco e qui ci resterà un po' di spazio qui ci andrà i polcini che ora vi vedrete poi quando si cresceranno si moriranno magari voi potete mettere i polli vi potete mettere in survival anche potete fare anche in survival se siete in survival potete portarlo ma ora sono in creati non vi dovete mettere così tanto potete mettere anche più poco e ora quando quando questi polli ci daranno l'uovo si mettono l'uovo l'uovo va al distributore e poi si fa nascere un polcino ora io vi mostrerò così perché com'è che siamo in video quindi ci dobbiamo fare così a voi si funzionerà io mi posso assicurare 100% ok io mi metto qui no ho sbagliato ok io mi metto qui le uove e così si andranno alla tramoggia vedete che qui è nato un polcino è nato un polcino quando si crescerà si muore e venirà no ho sbagliato venirà qui nel baule non ce n'è andato vabbè ok credo che avete capito ok l'abbiamo finito io mi saluto per oggi arrivederci a presto